Ciao a tutti amici dell'olivo, passeggiatina rapidissima, come possiamo vedere le foglie sono tutte bagnate, vi faccio vedere la situazione qui in quest'albero, qui abbiamo praticamente in alcuni punti siamo tipo in Scozia, piove da giorni, qui si sta facendo tipo il cotonello e quindi ci sarà bisogno probabilmente di un trattamento a base di rame perché non ha smesso di piovere, non so da quanti giorni, qui però la situazione è abbastanza buona, vi faccio vedere, ho messo a dimura qualche pianta quest'anno, durante l'inverno un melograno e altri, una mela, stanno bene, qui un altro melograno, melograno e qui abbiamo questo fico d'India preso nel viaggio in Sicilia. Allora procediamo, qui purtroppo in questi giorni c'è stato veramente, cioè non sta smettendo di piovere, le piante però le vedo bene, forse c'è solo bisogno di qualche trattamento a base di rame, poi i gatti, gatti ovunque, allora qui invece ho messo a dimura un kaki, eccolo, kaki vaniglia, qui un nocciolo, pare che si sia ripreso abbastanza gatto impazzito, questo invece mi è venuto a mancare, vediamo, eccolo, un gatto, un altro gatto, vari gatti, allora qui invece ho messo quattro melograni, lì uno, due, tre e quattro, procediamo qui, eccolo quel gatto, i gatti qui spadroneggiano, eccolo, allora, situazione attuale, allora vediamo, erba altissima, cioè non sono riuscito neanche a tagliare l'erba, qui praticamente ha piovuto poco fa, un altro kaki, bello, sta bello in forma, lo vedo molto bene, qui in erbimento a go-go, ci sono dei punti in cui c'è più sostanza organica, dei punti in cui c'è meno, cioè voglio dire, dei punti in cui l'erba è più folta, dei punti in cui l'erba è meno folta, allora qui tutto procede per il meglio, sicuramente quest'albero farà un' abbondantissima fioritura, è bello strapieno, strapieno ovunque, qui abbiamo mamma gatta, e lì abbiamo la gang, eccoli, eccoli, temporeggiano, non penso che verranno qui, non li vedo perché veramente è tutto bagnato, piove non so da quanti giorni, come vi dicevo prima, vediamo la situazione invece di queste piante poste di mura 5, quasi 5 anni fa, 4 anni e mezzo fa, questa è la situazione, stanno bene, vediamo come prima cosa, sempre i germogli, i germogli stanno, cioè non hanno avuto attacchi di insetti, quest'anno meno che mai, vi dico la verità, non so se attribuire questa cosa all'inerbimento, non so a che cosa attribuirla, infatti come possiamo vedere sono tutte bagnate, i germogli tutti in perfetta forma, quest'albero poche foglie, voglio dire pochi fiori, e qui mi sarebbe piaciuto fare un video in una giornata un po' più soleggiata, però purtroppo questa abbiamo, leccino qui, anche questo ha un po' di fiori, quest'anno sta andando abbastanza bene, non c'è secondo me da lamentarsi, se non fosse che ovviamente da buon agricoltore mi lamento del fatto ovviamente che non sta smettendo di piovere, il che probabilmente potrebbe essere una cosa anche positiva, qui continuiamo con queste coratine, cioè guardate qui abbiamo praticamente l'erba che sale fino a questa altezza, qui siamo oltre i due metri rispetto a me, oltre i due metri di altezza che non è poco, però guardate qui l'erba come sta bene, sta diventando altissima, quindi bene. Allora, sul suolo mi sto veramente cercando di informare al meglio, infatti in questi giorni mi piacerebbe fare una diretta per parlare con voi del suolo, perché appunto mi sto informando sempre di più, guardate qui c'è l'erba dentro l'albero, molti mi diranno ma se un pazzo non è ancora tagliato l'erba e ci sta per esempio questa pianta è strapiena di fiori, ovunque la si guardi, infatti guardate qui questi fiori stanno quasi per sbocciare, bene, vediamo qui invece quest'altra bellissima pianta, verdissima, bellissima, guardate qui che colori, veramente quest'anno, eccolo, eccolo, abbiamo un amico gatto, poi, cu 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 cu, fatti vedere, fatti vedere che faccia hai, eccolo, vabbè, non si fa vedere, eccolo, guardate qui che bellissimo gattino, ciao ok, bene, molto bene qui la situazione, allora togliti da sopra, lì questo è un albero invece ripreso da un pollone, infatti, ecco qui neanche si vede, ma sotto abbiamo, eccolo qui abbiamo altri polloni che stanno ricacciando, allora qui abbiamo il gatto che per non bagnarsi si sta appoggiando a me, gattino, cu 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 cu, bene, comunque questa pianta, spettacolo, ehi, 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 non ci credo, mi sta salendo addosso, allora vieni, dai, ti accompagno io che sono mo' ti devi bagnare, dai, vieni, a volte gli amici gatti hanno bisogno di una mano, allora procediamo, procediamo qui su questo, guardate qui, spettacolo, spettacolo, bene, anche qui, guardate, che spettacolo di fioritura, cu cu cu, ehi, 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 guarda, ciao, di ciao, ciao, mo' ti lascio, ok, spettacolo di fioritura, bene, cioè fioritura, voglio dire, diciamo pre, pre fioritura, questa pianta è strapiena, bene, guardiamo anche questa, anche questa, guardate, che spettacolo, cioè sono sicuro, allora, io vi dico la verità, le piante così in forma in un olivitino asciutto, sinceramente mi sembra di non averle mai viste così in forma, probabilmente sarà dovuto al fatto che, guardate qui, quest'erba è alta quanto quest'albero, qui abbiamo sempre l'amico gatto che mi insegue, ok, qui abbiamo l'erba altissima, veramente sta diventando una foresta, però vi dico la verità, in questi giorni non ha proprio smesso di piovere minimamente, e infatti ho quasi paura, ho quasi paura, sicuramente ci saranno, diciamo, andrà fatto un trattamento, vieni, vieni, andrà fatto probabilmente un trattamento, come dire, un trattamento, probabilmente fogliare, e il punto è questo, che questo trattamento andrebbe fatto in tempi rapidi, guardate qui, si era creata talmente tanta erba, che è praticamente si allettata, a causa proprio delle forti piogge, innumerevoli piogge, che ci sono stati, infatti come vi dicevo, anche oggi, appena finito di piovere, sono corso subito a fare una passeggiata, infatti qui mi sto bagnando completamente, bene, leccino, anche questo lo vedo abbastanza pieno, e mi sembra di non aver mai visto, come vi dicevo, delle piantine asciutto, così in forma, non vi dico quelle che ho praticamente nell'olivito più grande, sono andato proprio ieri, solo che non ho fatto in tempo a fare un video, e allora guardate qui, produzione di quest'anno, e qui nuovi germogli per la produzione dell'anno prossimo, tanta roba, bene, 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 allora vorrei, sinceramente, allora per quanto riguarda i trattamenti di cui vi stavo parlando prima, il trattamento fogliare, sinceramente non so se riuscirò a farlo, dipende molto da come andrà la stagione, cioè la stagione, come andranno questi prossimi 5-10 giorni, mi ero ripromesso di venire praticamente a tagliare l'erba in tempi molto più rapidi, però purtroppo, cioè purtroppo, sicuramente non ce la farò, allora andiamo di qua, abbiamo l'amico gatto, che è ormai quasi un cane, allora, allora siamo qui, ce l'abbiamo fatta, e vi faccio vedere un attimo un albero che sta qui dietro, così lo andiamo a vedere insieme, allora per quanto riguarda il trattamento fogliare, sinceramente la vedo abbastanza dura, il trattamento fogliare a base di rame, la vedo abbastanza dura perché se tra qualche giorno inizia, cioè continua a piovere, e magari riprende la fioritura, cioè inizia alla fioritura, la piena fioritura, cioè quest'antico detto, quando l'olivo è in fiore non lo tocchi lo zappatore, e quindi diciamo che non, cioè se vai in fiore non si può più fare in pratica, si può fare dopo, ma non durante la fioritura, infatti guardate qui, cioè siamo praticamente, cioè la fioritura sta iniziando, qui non sono neanche riuscito ad entrare in campo per fare appunto la trinciatura, figuriamoci se riusciamo a fare il fogliare. Allora qui finisce il mio terrino, procediamo in questo, anche qui parecchia erba ovunque, allora io praticamente vi faccio sempre queste passeggiate, che un po' mi aiutano anche diciamo tra virgolette a meditare, però mi aiutano anche a osservare, diciamo che una cosa fondamentale da fare per quanto riguarda proprio l'agricoltura e l'agricoltura è l'osservazione, allora qui abbiamo sempre piante abbandonate, che ho fatto vedere tantissime volte, piante abbandonate, piante abbandonate, terreno lavorato veramente mai da tantissimo tempo, infatti qui si può vedere praticamente tutta la biomassa che sta qua, la terra neanche si vede, c'è il muschio, guardate qui il muschio, guardate qui l'amico gatto, è bello! Quindi questo terreno viene praticamente solo trinciato, è stato trinciato qualche volta, qui addirittura abbiamo i gigli, che sono praticamente delle piante semiperenni, questi alberi giganteschi, potati due o tre anni fa e poi mai riportati avanti, guardate qui già si vede il giallo, il giallo, questo non li vedo, qui abbiamo questo olivo sempre abbandonato, per esempio questo si vede che sta bene, il suolo qui guardate com'è verde, guardate qui proprio che differenza tra questo suolo più giallastro e questo molto più verde, molto più folto e allora anche questo li vedo devo dire che sta bene, le piante sono sempre gestite, il terreno è sempre fresato, quindi non con la trincia ma con la frisa e guardate che dimensioni diverse hanno questi alberi, questi alberi hanno praticamente le radici praticamente tutte tutte fuori e il suolo non è minimamente coperto, mentre proprio come dimensione, perché questi sono campi uguali comunque, questa è la dimensione di quell'albero, potenzialmente quell'albero può produrre almeno due volte quello che potrebbe produrre quest'albero che come si può vedere, è di dimensioni molto più ridotte, sicuramente sia per diciamo per quanto riguarda la gestione, diciamo viene ovviamente gestito e potato e quindi sicuramente è meglio quello diciamo tra virgolette qui dietro che viene sempre potato, quindi per la raccolta e la potatura diventa tutto molto più facile in questo olivito potato, mentre in questo ovviamente qui si parla di un'altezza non so di quanti metri che hanno questi alberi e quindi la vedo veramente molto dura per la potatura, per la raccolta, anche perché fondamentalmente essendo abbandonato non lo vengono neanche a raccogliere, qui infatti abbiamo un'oliva vecchia, però paradossalmente anche qui ci sono i fiori, vi ripeto di nuovo completamente abbandonato, guardate qui queste ceppaie e niente quindi mi piacerebbe fare una live in questi giorni se non proprio stasera proprio per parlare di questi argomenti cioè della gestione del suolo, quindi inerbimenti diciamo che mi sono messo in questa situazione, cioè questo tipo di pensiero appunto per quanto riguarda l'inerbimento, la gestione del suolo e così via perché ho notato che da un po' di tempo a questa parte appunto a volte abbondando anche fin troppo con dei concimi chimici sia al suolo che al terreno, soprattutto nei terreni in asciutto, mi ritrovo ad oggi che ci sono alcune piante che rispondono cioè stanno male, non stanno bene e quindi un'integrazione di sostanza organica nei suoli, quindi diciamo cercare di lavorare meno il suolo, fare inerbimenti, trinciature e trinciare anche i residui delle potature e insomma tutte queste situazioni potrebbero portare ad avere appunto un miglioramento appunto della qualità e della fertilità del suolo. Qui sono solo due anni, questo è il secondo anno che sto iniziando a fare questa cosa, infatti queste qui per esempio sono delle lenticchie che ho buttato così a caso, sono quasi in fioritura, però guardate qui questo suolo prevalentemente argilluso non si riesce neanche a coprire da sé, però l'altro canto guardate qui cioè qui è veramente silenzio, silenzio perché cioè è uno spettacolo, è uno spettacolo la quantità di fiori che ci sono è veramente abbastanza scandalosa, guardate qui abbiamo praticamente questi tutti i rami di quest'albero sono diciamo stanno portando dei fiori e quindi io mi pongo il dubbio, cioè mi viene adesso il dubbio che avendo fatto questa pratica per soli diciamo due anni la pratica dell'inerbimento mi viene il dubbio che ho perso un sacco di produzione diciamo lavorando meno avrei fondamentalmente guadagnato di più in pratica, cioè qui anche questo che non vengo da un voto a vederlo cioè anche questo sta molto bene quest'albero mi ha dato parecchie problematiche perché diviso era altissimo infatti se vedete lì ci sono varie capitozzature nei punti più alti perché avevo praticamente due palchi da qui a diciamo lì erano altri quasi due metri di altezza e piano piano lo sto abbassando lo sto abbassando lo sto inizio a vederlo molto meglio come vi dicevo spero di fare una una live il più presto possibile per parlare con voi del suolo e diciamo la gestione del suolo e quindi insomma spero di riuscire a far a capire sempre meglio questo concetto diciamo nella gestione del suolo che fino a poco tempo fa ho sempre pensato fosse rilevante però adesso penso sempre di più che diciamo una questione sempre più rilevante adesso diamo un rapido saluto ai gatti gatto gatti gattamamma nera gattina bello questi invece sono più selvaggi come gatti mentre questo è tutto bagnato tutto bagnato vieni saluta ciao di ciao ehi di ciao ciao